Un'operaia cinese cinquantenne, irregolare in Italia, è stata trovata senza vita all'interno di un maglificio di Comeana in via Guidorossa, un'azienda completamente a conduzione orientale. La donna è stata rinvenuta al primo piano del capannone e il decesso risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento. L'allarme è stato lanciato da una connazionale che l'ha trovata priva di vita in un bagno chiuso dall'interno ed ha chiamato il 118. L'intervento dell'ambulanza della misericordia di Poggio a Caiano, però, si è rivelato inutile perché la cinquantenne era ormai morta da alcune ore, riversa a faccia in giù e senza alcun segno di violenza sul corpo. I colleghi di lavoro hanno raccontato di averla vista per l'ultima volta la sera di domenica, secondo quanto riferito dai carabinieri al primo piano del capannone, dove è stato rinvenuto il cadavere. Sarebbe stato adibito un dormitorio abusivo per gli operai che lavorano al piano terra. Gli investigatori hanno avviato le indagini per accertare i motivi del decesso probabilmente avvenuto per cause naturali.